Sì certo, e questi turbamenti, queste distonie costituiscono delle compressioni, dicevi prima, energetiche che poi nel tempo appunto sfoceranno in disagi, a meno che l'individuo invece non conservi un buon equilibrio, perché in fondo l'equilibrio sta proprio nell'accordo, in un buon accordo tra queste due istanze all'interno del sistema. Certamente. Ecco, ma tornando all'oggetto del desiderio, cioè il fine ultimo in fondo del nostro agire, l'individuo non fa che perseguire costantemente e ricercare il raggiungimento di oggetti del desiderio, di qualunque natura essi siano. Ma sappiamo anche che all'interno soprattutto delle relazioni umane questa sintonia, quindi non la distonia, si gioca proprio nel rapporto tra gratificazioni e penalizzazioni, sempre nella sfera inconscia. Di che cosa si tratta esattamente? Ebbè, dunque, il concetto, vedi, allora dobbiamo partire da un presupposto di base, credo che sia il messaggio che andremo a esprimere proprio su questo concetto. Potrebbe apparire che l'istanza logica, nella sua azione, diciamo pure costrittiva, alcune volte, svolga un ruolo cattivo, in sostanza, perché alla fine genera anch'essa una disarmonia, quindi un conflitto interno. In realtà l'istanza logica assolve al suo compito prioritario, che è quello praticamente del principio della libertà, quindi potremmo definire che l'istanza logica opera attraverso queste regole per garantire all'individuo la libertà, la libertà di decidere, di fare senza alcuni condizionamenti. Questo è l'obiettivo dell'istanza logica. Ora, invece, l'inconscio si trova nella necessità di appagare un altro obiettivo, ritenuto molto importante per l'insieme dell'individuo, che è la conquista del sogno. Il sogno sarebbe il desiderio, il sogno sarebbe l'obiettivo che ci prefiggiamo. Un obiettivo, un sogno che nasce dalla tirannia, in sostanza, dall'aver desiderato, cose che non si è potuto, sino a quel momento, possedere. Questo sogno praticamente è prerogativa dell'inconscio. L'inconscio persegue questo obiettivo, quindi l'inconscio persegue il sogno, l'istanza logica persegue il principio di libertà. Ora, questi due elementi, questi due percorsi non sempre sono complementari. Il sogno potrebbe ostacolare alcune volte il principio della libertà e quindi interviene l'istanza logica con le sue azioni costitutive di cui abbiamo parlato. Ma è anche vero l'opposto, che potrebbe essere il sogno ad essere vincolante per l'istanza logica. Della serie capisco a cosa vado incontro, ma non mi interessa, io amo quella persona e me la sposerò comunque, in sostanza, anche se questo dispiace ai miei genitori. Faccio per dire, entrerò in conflitto con loro, che rappresentano l'istituzione, il senso di libertà in questo caso, perché poi è flessibile questo senso di libertà, si trasmuta secondo gli eventi che viviamo in tantissimi opposti elementi e quindi ci troviamo di fronte a questi conflitti. Nel momento stesso in cui il principio di libertà entra a conflitto con il sogno, non ha importanza se è prioritario uno o l'altro, automaticamente si crea questa distonia. Ora occorrerebbe andare a analizzare i connotati di questa distonia, che può essere scaturita dal fatto che si desidera, ma non si possiede abbastanza ciò che si desidera, oppure viceversa, si possiede, ma non si desidera abbastanza ciò che si possiede. È da qui che nasce la qualità della distonia che poi ci porta a definire la tipologia di appartenenza di una persona, se appartiene alla tipologia distonica dell'essere o dell'avere, perché l'essere praticamente ha una caratteristica prioritaria, deve sempre desiderare e mai possedere abbastanza, questo è ciò che ricerca e viceversa l'avere. Benissimo, parleremo anche tra poco ancora della distonia, ma dunque rispetto a tutti gli aspetti che vedremo tra poco anche con esperimenti di queste tue straordinarie scoperte, forse il nodo cruciale è proprio il fatto di aver scoperto che l'inconscio è una intelligenza e non è una istanza selvaggia o indomabile, è un qualcosa che persegue con le proprie leggi, con le proprie regole, che persegue i propri obiettivi, quindi questo forse è la svolta. Certo, potremmo definire che esistono due pensieri nell'uomo attraverso un'ascissione, perché all'inizio non c'erano questi due pensieri, il pensiero era unico, poi per problemi di coscienza nel perseguire i propri sogni, automaticamente questo pensiero unico si scinde in due pensieri e abbiamo l'istanza logica, quindi il pensiero della ragione e quindi del principio della libertà e poi abbiamo il pensiero analogico, ossia dell'inconscio che persegue invece a quel punto si allinea alla ricerca del sogno. Ecco, potremmo definire che poi il conflitto ci porta un po' a vivere gli eventi come vengono vissuti dai palestinesi e dagli israeliani in sostanza, si arrivano a conflitti così forti, allora la grande novità è data dal fatto, dalla grande scoperta che come possiamo con la riflessione trattare con la nostra parte logica, perché con la nostra parte logica noi sappiamo già per cultura adottare dei negoziati, cioè in altri termini le discipline analogiche non portano nulla di nuovo e non c'è bisogno di nuovo perché già la cultura illuministica ci permette di poter intervenire a negoziare, a trattare con la nostra istanza logica e questo avviene attraverso quelli che potremmo definire compromessi logici in sostanza, ecco, riflessioni, la riflessione ci permette di calibrare il pensiero logico in sostanza, questa riflessione che poi assume un valore ben preciso in seguito che riguarda è la nostra coscienza, quando noi parliamo di riflessione parliamo della coscienza, della nostra coscienza personale quindi che interviene per negoziare con il principio della libertà, della serie per esempio sì, è cosa di tuo diritto per seguire la libertà ma fai attenzione a non fare del male alle persone care, ecco cosa dice per esempio la coscienza, è uno dei possibili eventi che scaturiscono e pertanto noi andiamo a negoziare con il nostro principio di libertà, ossia con la nostra istanza logica affinché praticamente ci possa essere un negoziato. Ma noi vedremo qui anche invece un negoziato analogico. Ecco il punto, grazie alla conoscenza dei linguaggi emotivi non verbali che questa invece la cultura acquisita non ci ha permesso di conoscere, di evidenziare, siamo in grado di fare negoziati con la nostra coscienza, perché la nostra coscienza è il punto fondamentale, anche con la nostra parte emotiva istintuale e quindi con il nostro inconscio, cosa che prima di oggi, che venite a conoscenza di questa possibilità, venite a conoscenza dei linguaggi emotivi necessari per interagire con il nostro inconscio non era possibile, pertanto questo inconscio culturalmente è stato sempre evidenziato come un'estrema, come posso definire, massa istintuale senza ragione, in quanto non era possibile negoziare con questa parte emotiva inconscia presente in noi e pertanto dovevamo necessariamente in modo costrittivo, attraverso tutti i sistemi di autocontrollo dell'emotività, rendere questo inconscio praticamente debole in sostanza e quindi l'approccio non poteva essere altro che una battaglia, un conflitto con questo inconscio e non praticamente un'armonia e quindi non un incontro, ma mi piace quella frase che hai usato tu, ma uno scontro praticamente, non era possibile trattare con l'inconscio in un modo diverso se non con lo scontro, oggi invece signori è possibile parlare con l'inconscio attraverso l'incontro, la stessa nostra coscienza come può negoziare con l'istanza logica, può nello stesso modo negoziare con l'inconscio, ora bisogna conoscere i linguaggi emotivi non verbali per poter fare questo, ebbene le discipline analogiche ci permettono proprio questo. E ne parleremo tra poco.